L'attacco a Vienna è un attacco all'Europa, come si risponde? Innanzitutto con un coordinamento maggiore delle nostre intelligence, perché è evidente che la collaborazione fra i soggetti che devono occuparsi della nostra sicurezza è il nodo che ci consentirà e ci deve consentire di trovare queste figure che si aggirano per l'Europa, che arrivano nei nostri paesi e che poi colpiscono indisturbati spesso, approfittando delle situazioni più varie. Quindi credo che questo sia il modo per potersi opporre a questa, che è qualcosa che ci addolora moltissimo, cioè un fatto davvero di civiltà. Ha idee diverse, confrontati, ma come si fa a pensare di poter con il terrorismo affermare le proprie idee? Ecco, quindi questo fatto che non è certamente caratteristica dell'Islam, come alcuni dell'opposizione stanno cercando di far credere, questi sono islamisti, sono dei terroristi assassini. E quindi la differenza è questa e non dobbiamo mai confonderci. Grazie a tutti!